Colpo scena in casa Inter dove, dopo l'arrivo Benjamin Pavard, continua la ricerca rinforzi al servizio Simone Inzaghi. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno pensando ad aggiungere un'altra pedina a centrocampo. Si lavora per un centrocampista.in, corso per Maxime Lopez del Sassuolo, che avrebbe richieste anche dall'estero. Comunque, visti gli ottimi rapporti tra i club, l'operazione potrebbe andare in porto si legge. E si sta sondando il terreno anche per Bubacari-Sumare, in partenza dall'Ester.